Aspetta, non lo vedo. Lo vedi? Sì, dai, vai. Gira, quando hai fatto, vai in quota, vai in quota. Non sopra lì, eh. No, vado più in alto. Più in alto, più in alto. Lo fai dove l'hai fatto prima. Ti indietro. Ma lo faccio qua vicino? No, da là parti, giri. Guarda che ti stai confondendo, non devo tirare indietro. Dai, vai. No, non lo faccio adesso. Eh, allora dimmelo quando lo fai. Di qua adesso. Eh, di qua, non riesco. Lo faccio di qua, eh. Quando mi giro. Aspetta che ti dà, stai di qua sulla pista però. Vado, eh. Aspetta, dai, vai. Bello. E basta, hai solo preso sensibilità. No, vai. È solo pasta adesso, basta, basta. Lo rischiare. Lo rischiare. No, solo perché adesso hai capito che... Oh, ci sono riuscito, non ci posso credere. Ma non è che quando facevo il looping era l'aria che me lo spostavo? No, 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 perché per sbaglio era abituato con l'altro. Ma io non mi oso mai a fare acrobazie. Ma no, no. Anche perché io voglio raggiungere il mio record. Cioè, voglio tenerlo il più possibile. Infatti. Che è il mio record è quello di non spaccare mai aerei. Infatti, fare acrobazie. Poi non è un acrobatico questo. È bello cattivello. Beh, guarda che l'acrobazia è looping. Guarda con l'Easy Star. Non l'ho mai fatto così così. Eh beh, chiamo questo qua. Questo li fa bellissimo. Ha le ali piatte. E fa bene. Le fa belle rotonde e larghe. Vuoi fare un passaggio basso-quota? Bene. E poi dopo basta per ripresa perché se no il filmino non trovo basso. No, 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 no. No, 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 no. Grazie. Grazie a tutti.